Aule di scuola trasformate in set fotografici, oltre che laboratori di trucco e parrucco, per far rivivere nelle studentesse di oggi il fascino delle grandi donne del passato, come Mary Varale, Matilde di Canossa, Cleopatra e molte altre. È giunto a conclusione il progetto Divine, promosso dal Circolo Cultura e Stampa Bellunese, Dolomia Unifarco, in collaborazione con gli istituti Ipsi Assegato Brustolonna, sezione moda, e l'istituto Leonardo Da Vinci, Accademia per Estetiste e Acconciatura, che ha portato alla creazione di veri e propri quadri viventi. Ha dato la possibilità alle nostre studentesse di mettersi in gioco, partecipando come modelle, truccatrice, parrucchiere, e mettendo anche in pratica le competenze professionali acquisite durante la loro formazione scolastica. Lavorando fianco a fianco con i professionisti, studentesse e studenti, hanno fatto idealmente un tuffo nel passato per vivere il presente. Delle ragazze nostre belunesi che interpretano la storia e costruiscono i loro costumi, il loro trucco, la loro passione di interpretare il mondo femminile e l'universo donna. Un progetto multidisciplinare che ha consentito, fra i vari aspetti, di mettere a confronto anche l'arte del trucco, dalle origini ai giorni nostri, utilizzando i prodotti Dolomia. La storia della cosmesi è molto nutrita perché esistevano i cosiddetti ricettari galanti. L'arte di adornarsi è sempre esistita fin dall'antichità. Una progettualità destinata ad aprirsi al territorio. Faremo con gli scatti fotografici del maestro Alberto Bogo una mostra delle ragazze, delle ventundirine, e anche raccoglieremo tutta l'esperienza fatta durante questo progetto in un dossier che verrà regalato alle scuole, anche per la sua valenza didattica.